L'argomento che ho trattato riguarda essenzialmente la tradizionale e consolidata abitudine a Roma di non rispettare le regole del piano regolatore. La zona in cui ci troviamo ne è forse uno degli esempi più significativi. L'aeroporto di Centocelle era previsto come uno dei nuclei degli snodi del grande centro direzionale orientale, del sistema direzionale orientale che si sarebbe dovuto popolare dei ministeri spostati dal centro della città. Tutto questo non è avvenuto e si è costruita o lasciata costruire la città in parte secondo nuove regole diverse dal piano e in parte attraverso una serie di regole spontanee che rispondevano ad interessi di una collettività ampia ma insieme ad interessi di speculatori privati. Questo è il risultato di una città che si è sviluppata a macchia d'olio e non ha trovato ancora una sua destinazione complessiva. La città nel suo insieme non si è più sviluppata dal punto di vista demografico, è cambiata però moltissimo dal punto di vista dell'uso degli spazi, dell'utilizzazione della vecchia città, del cambiamento di destinazione d'uso e insieme riflette ormai largamente un bisogno diciamo individuale di differenziazione che appartiene interamente alla società dei consumi in cui viviamo. La società dei consumi in cui viviamo è una società che è entrata in crisi e che però nonostante la crisi cerca ancora soluzioni individuali a problemi collettivi. Il tornare all'attenzione dei bisogni della collettività perché anche i singoli se ne possono avvantaggiare è la grande scommessa che abbiamo di fronte e che al momento non sembra in via di soluzione. Un piano regolatore è una struttura troppo complicata per poter richiederne uno nuovo. Io penso che Roma abbia fra le sue priorità, data anche la varietà e le distanze da luoghi abitativi ai luoghi di lavoro, di ottenere per i cittadini la garanzia di trasporti sicuri, veloci, efficienti che rispondono alla principale esigenza che mi pare riguarda l'intera collettività. Una mobilità garantita, una mobilità sicura, tempi certi di trasporto che vuol dire non solo la possibilità di raggiungere i luoghi di lavoro o gli ospedali o altro, ma vuol dire anche garantire un intreccio e una sensazione, diciamo così, di collettività che funziona. La rete metropolitana, che c'è in tutte le altre grandi città europee, è anche questo, non è luogo di pericolo o qualche volta di degrado, ma è luogo di assimilazione e di condensazione dei bisogni collettivi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!